Il tuo straordinario 2021 si è concluso con un periodo di stop dovuto a un infortunio. Come ti senti ora? Sei pronto per rientrare? Sì, sì, assolutamente sì. Ho cercato di lavorare nel migliore dei modi per rientrare e ho avuto anche modo di lavorare durante la sosta e adesso sono pronto così come è pronta la squadra a ripartire perché vogliamo ripartire da dove abbiamo finito. A Bologna la squadra non ha potuto giocare, è difficile mantenere la concentrazione a livelli alti in questi momenti e come avete vissuto la situazione nello spogliatoio? No, noi sicuramente eravamo pronti a giocare ed eravamo mentalizzati sulla partita. Poi è arrivata questa decisione e ci siamo adeguati. E niente, noi ci siamo allenati bene in queste settimane prima della partita col Bologna e sicuramente quella preparazione ci servirà poi comunque per partire bene in questo 2022. L'unica sconfitta in campionato è arrivata all'Olimpico proprio contro la Lazio che nell'ultima giornata ha dimostrato di rimanere sempre in partita. Che indicazione vi ha dato il mister per prepararvi alla sfida? No, ci ha detto sicuramente che è una squadra forte, che ha grande qualità. L'abbiamo visto comunque anche all'andata, nonostante ci sia stato qualche episodio che ci ha fatto perdere la partita. Però abbiamo proprio testato con mano la loro qualità e sicuramente dobbiamo stare attenti. Come hai detto tu, non muoiono mai e l'hanno dimostrato anche nell'ultima di campionato. Sicuramente sarà una partita difficile, però vogliamo partire nel migliore dei modi.